Sono arrivata a Gadoni, un posto speciale della Sardegna pieno di storie e bellezze da scoprire. Mi hanno subito fatto sentire come a casa, mostrandomi il cuore vero di questo paese. La mia giornata inizia con una visita alla mostra di minerali e fossili, dove ogni pezzo racconta una parte della storia della Terra. È stato come fare un viaggio nel tempo, scoprendo segreti antichi che mi hanno affascinato. La visita alla miniera di Fontana Raminosa è stata un'altra avventura incredibile che mi ha fatto vedere da vicino la storia mineraria di Gadoni e lo spirito di comunità che anima questo posto. Non poteva mancare un assaggio dei sapori locali. Ogni boccone è stata una scoperta. Un viaggio tra i sapori autentici della Sardegna. La mia esperienza si chiude con una passeggiata nel paese, dove la musica e l'artigianato locale mi hanno regalato ricordi indimenticabili. Gadoni è stato un viaggio dentro la storia, la cultura e le tradizioni di un angolo meraviglioso della Sardegna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.